Potrebbe effettivamente essere un record lo stipendio del segretario generale della Camera di Commercio di Bari Roberto Maiorano pari a 251 mila euro l'anno, una cifra che ne fa il manager pubblico meglio retribuito dell'intera Puglia. L'ente camerale guidato dal presidente Luigi Faraccia ha pubblicato sul suo sito internet i dati dell'operazione trasparenza, quella voluta dal ministro Brunetta giugno scorso. Le consulenze non ci sono ma gli stipendi dei dirigenti e i dati sulle assenze del personale sono lì e la sorpresa è appunto Maiorano che con 251 mila euro batte per esempio il procuratore della Repubblica, l'avvocato distrettuale dello Stato e il capo di gabinetto della Regione Puglia. Gli altri dirigenti della Camera di Commercio, vale a dire i vice segretari Vastano e Pepe, i tre responsabili dei settori, si fermano invece a circa 110 mila euro l'anno, una cifra che li poni allo stesso livello dei direttori d'area della Regione. Ma comunque su un gradino molto più alto rispetto ai dirigenti comunali con responsabilità pari o superiori. Insomma, più che stupirsi ci sarebbe da congratularsi con Maiorano.